Ennesima puntata ricca di colpi di scena, quella del grande fratello, VIP, andata in onda ieri. Tutto questo grazie anche ad Alfonso Signorini. Il conduttore e padrone di casa del reality si è infatti reso protagonista di un clamoroso siparietto in Diretta TV, un momento di alta tensione che ha scatenato il pubblico in studio ma fatto nascere alcuni sospetti nei telespettatori. Nel dettaglio si tratta della clamorosa cacciata dallo studio dell'attore Alex Bellireo, secondo il conduttore, di disturbare il suo lavoro. Signorini ad un certo punto ha invitato l'attore a lasciare lo studio a causa del suo atteggiamento in Diretta TV, un episodio che secondo gli utenti dei social è stato in realtà concordato dai due per conquistare l'attenzione del pubblico. Nella serata di ieri l'attore Alex Belli si è ritagliato nuovamente il suo ruolo da protagonista, a causa del triangolo che lo vede coinvolto con Delia, Duran e Soleil Sorge. Le dichiarazioni del Geffino, questa volta, non hanno convinto nessuno, nemmeno le due opinioniste ed il conduttore. In particolare, Signorini si è lasciato andare ad accuse di poca chiarezza nei confronti del Vippone, che stanco si è alzato in piedi ed ha lasciato lo studio, salvo poi fare il suo clamoroso ritorno. Un siparietto condannato dai telespettatori che si sono lasciati andare a frecciatine al veleno. La recita migliore la sta facendo Alfonso. La scena concordata della cacciata dallo studio di Alex è servita a dare un po' di credibilità al burattinaio ed alla telenovela. Rassegniamoci, avremo ancora blocchi di due ore ogni puntata, d'altronde lo scergli da ragione. Un atteggiamento quello di Signorini, che quindi i telespettatori sembrano non apprezzare più. Una critica che non annulla però il successo della scorsa puntata con il conduttore che ha raggiunto il suo record stagionale.